buonasera benvenuti bentornati su pennello per le sue carte eccoci nuovamente insieme per un nuovo video interattivo questa sera ho posto una domanda diciamo così assai richiesta quindi è molto ricorrente ho voluto chiedere infatti semplicemente se lui o lei si farà risentire quindi magari c'è una persona con cui abbiamo litigato che è sparita o ancora una persona che semplicemente è sparita anche senza alcun litigio aspettiamo una telefonata un messaggio che non sta arrivando e siamo inquieti insomma semplicemente quindi non ho chiesto se ritorna per portarci via con il cavallo bianco sposarci o chiederci in sposa ho chiesto semplicemente se la persona x che può essere un uomo o una donna quindi mi rivolgo ad ognuno di voi naturalmente se si farà viva se si farà risentire può essere un ex può essere un amico un'amica un collega il concorso che ci deve dare una risposta insomma semplicemente se riceveremo questa posta va bene ho fatto un semplice mazzetto di di tarocchi ho già fatto i tre mazzetti e li ho contraddistinti così la casina la casina poi qui c'è il il pirata e il topino questo è un topolino ok quindi fate la vostra scelta scegliete uno dei tre mazzetti ed andiamo a vedere se finalmente questa questa posta questo messaggio questa chiamata arriverà andiamo vediamo la risposta del nostro topino vediamo un po il topolino che risposta ci ha dato allora beh diciamo che qui assolutamente le carte sono non positive sono positivissime qui non solo ci vedo la chiamata o la telefonata o il messaggio insomma la notizia ecco chiamiamola così ma qui ci vedo anche un appuntamento per uscire quindi qui c'è proprio un fare qualcosa non mi meraviglierei se doveste proprio poi uscire uscire insieme andare a ballare andare a cena andare a bere un aperitivo insomma ci vedo proprio il festeggiare insieme un qualcosa ci vedo la tavola l'essere insieme diciamo ok quindi qui assolutamente sì ne sono ancora più convinta se siete donne quindi qui vi vedo proprio ricevere il messaggio ma anche diciamo così se siete uomini se siete maschiette vi state chiedendo ma come reagirebbe se la chiamassi io se la invita reagirebbe con gioia con assoluta assoluta gioia queste sono carte bellissime quindi non vado neanche ve le faccio vedere non vado neanche a come si dice a soffermarmi più del dovuto perché che ve lo dico vediamo se riesco a farvele vedere tutte e tre tutte e tre mettendole magari così ci entrano capito queste sono carte assolutamente assolutamente bellissime fantastiche come vi dicevo di di chiamata telefonata quindi di messaggistica ma anche di incontro vero e proprio che non credo sarà fortuito qui ci vedo proprio un appuntamento per vedersi magari al solito posto dove vi vedevate dove vi frequentavate di solito non mi meraviglierei se fosse proprio in un albergo in un ristorante in una struttura abbastanza abbastanza come si può dire diciamo carina familiare e quindi che dire non saprei cos'altro dirvi ragazzi e ragazze qui non vi rimane altro che aspettare e non credo neanche troppo queste sono carte veramente veramente belle quindi assolutamente sì di qualsiasi persona di qualsiasi tipo stiate aspettando le notizie anche se qui sembrano proprio affettive ma non solo qui le riceverete senza il minimo ombra la minima ombra di dubbi ok quindi benissimo festeggiate pure vediamo un po il pirata che risposta ci ha dato vediamo un po se questa notizia arriverà allora dunque qui diciamo che le notizie non stanno arrivando da un bel pezzo qui siamo proprio in ansia qui stiamo dando proprio i numeri sai quando uno è lì che sta lì che si mangia le unghie in agitazione qui c'è un'ansia pazzesca allora io devo dirvi che effettivamente qui queste notizie non stanno arrivando non stanno arrivando siamo lì in attesa come dicevo c'è molta ansia c'è molta agitazione riguardo a queste notizie che come dicevo prima non è detto siano solo solo ed esclusivamente affettive ci sta che siano di qualsiasi di qualsiasi tipo qui per il momento le carte paiono dire proprio per il momento mi dicono adesso no quindi qui notizie non ne vedo almeno per il momento presente non no 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 arriveranno e mi dicono le carte arriveranno diciamo che mi lasciano questa corticina questa corticina un pochino un pochino un pochino aperta devo dire che qui sembrerebbe quasi che è vero che siamo in ansia ad aspettare ansiosamente per questa notizia ma è anche vero che siamo molto deluse e disilluse o disillusi perché mi rivolgo sia alle donne che che agli uomini naturalmente va bene quindi diciamo che qui non ci si crede più cioè abbiamo fatto l'interattivo tanto per fare però dentro di noi almeno qui vedo manca proprio anche proprio la speranza è come se ci rendessimo conto che il discorso è molto molto difficile però una piccola porticina aperta la carta le carte me la lasciano mi dicono semplicemente per il momento no quello che vedo invece della notizia della persona in questione vi potrebbero arrivare dei pettegolezzi all'orecchio delle notizie riguardanti quella persona di cui state chiedendo capito che voglio dire se voi avete chiesto giuseppe si farà risentire le carte ti dicono no giuseppe no ma sentirai parlare di lui verrai a sapere qualcosa sentirai qualcosa perché qui ci vedo proprio dei dei pettegolezzi delle informazioni che vi arriveranno riguardo a questa situazione a questa persona va bene ma non la sua notizia diretta almeno non ora non per il momento mi dicono le carte quindi non mi tagliano via le speranze in modo brutale mi dicono per adesso no ok vediamo infine la risposta della casetta vediamo che risposta ci ha dato la casa allora qui effettivamente qui il blocco si vede che ve lo dico a fare cioè qui veramente tutto fermo e tutto questa una persona un po un po così si fa un po desiderare sinceramente magari vi dice sì sì ti chiamo ci sentiamo e poi non si fa vivo cioè qui è come se ci fosse una promessa non so come dire magari non è uno è sparito nel nulla magari è uno che vi dice sì sì tesorino ti chiamo domani e poi sparisce 15 giorni ecco io qui ci vedo una cosa di questo di questo tipo dunque qui ancora per un momentino io qui ci vedo proprio il il blocco quindi qui non c'è comunicazione e non ci sarà non ci sarà per il momento quindi per adesso non vedo tutto fermo però le carte poi mi dicono che ci sarà quindi qui la notizia arriverà però cioè qui ne deve passare ancora del tempo è quindi magari al prossimo interattivo chiederete nuovamente per vedere per vedere come andrà questa situazione quindi qui per ora è tutto bloccato per ora è proprio tutto 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 fermo e lo sarà ancora per un bel pezzo perché insomma vedo le carte qui sono abbastanza lente rispetto agli altri mazzetti che abbiamo appena visto queste sono carte sono carte lente mi lasciano anche qui perché qui ci vedo tipo un invito una cosa capito qui un qualcosina c'è qui un cambiamento lo 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 vedo però più avanti però più avanti per adesso è tutto fermo poi a un certo punto vedo questo tizio specialmente se siete donne avete chiesto di un uomo lo vedo riapparire lo vedo riapparire potreste chiarirvi 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 per modo di dire perché questa dovrebbe essere anche una persona se avete chiesto come dicevo di un di una persona maschile anche una persona abbastanza abbastanza buciarda oddio sia che sia uomo che sia donna in special modo se uomo quello che state quello che state aspettando va bene ma qui come vi dicevo è più una promessa di farsi sentire che non viene mantenuta quindi qui non credo che sia una situazione capito che voglio dire proprio chiusa la situazione di uno che dice sì sì ci sentiamo domani e per venti giorni va a comprare le sigarette sparisce è con qualcosa di questo tipo vedo da queste carte però mi fanno vedere che dopo un blocco dopo un momento di silenzio di blocco anche abbastanza lungo quindi se tanto che non lo sentite magari sarà meno meno lungo il periodo che dovrete ancora aspettare qui mi dicono semplicemente dopo un momento molto lungo di silenzio di chiusura della comunicazione questo soggetto questa persona tornerà a farsi viva magari con un chiarimento insomma vi dirà vi dirà qualcosa va bene non escludo che lo incontriate semplicemente per strada quindi qui potrebbe benissimo essere notizie nel senso non che questo alzi il telefono e vi chiami veri contatti ma potreste incontrarlo per strada semplicemente quindi novità in questo senso qui ci vedo ok la vedo più difficile che questa persona alzi il telefono e vi mandi un messaggino che vi telefoni più facile che che sia che sia un incontro d'accordo ok allora cari amici cari amiche io anche per questo video ho concluso come vi dico sempre ormai lo sapete se volete informazioni per un consulto personale privato troverete qui sotto al video tutti i miei link il mio indirizzo di posta e la mia pagina facebook che vi ricordo si chiama le carte di penelope credo di avervi detto tutto quindi io vi ringrazio per l'attenzione vi invito naturalmente ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto vi ringrazio vi abbraccio vi bacio gioia amore ad ognuno di voi e noi ci rivediamo al prossimo video ciao alla prossima